Ciao a tutti, sono Elena e siamo nel VULGARTI SPACE in Palza Saluzzo. Voglio presentare Colta Silva, un artista spagnolo che ha esposto le danze di soli e il soli dell'arte. Due art works dove vuole mettere una persona semplice e felice con la sua transversità. Lui piace giocare con color acrilico che sono solo nella sua mente per riflettere la sua personale. È il desiderio di essere libera e la luce sul canale.